Pronto, sì, sono un tecnico del Ministero dell'Ambiente, volevo, sì, no, sì, tu hai capito, ti volevo chiamare per quel discorso di parere che vi si è dato sui cosi, sui masterplan che voi ci avete mandato, siccome che sono stato andando a Firenze, ho pensato di chiamare io, che capito che conosco la città, tu lo senti, che ormai ho preso l'accento, pure che sono di giù, ma gioco l'accento che mi sono adattato, insomma. No, ti volevo dire soltanto alcune cosette, giusto per spiegare che pareva brutto che vi si è mandato sto coso, sto parere, che poteva sembrare, era solo per capire alcune cose, una cosa che si voleva capire è questa qua, che voi ci avete detto che voi volete fare il progetto, la pista di 2,4 km, nei pitti c'è scritto che la fanno di 2 km, come voi la risolvete questa cosa? Voi fate a pugni, voi fate a testa o croce, come voi fate? No, per capire, perché tu hai visto su queste cose, sono puntigliosi, quei 400 metri, io gli ho detto, ma che sono 400 metri, a pietro li fanno in un minuto, ti immagino un aereo, però su queste cose non ci sento, vogliono capire, per cui c'è questa faccenda qua. Un'altra cosa, che non sei capito, è questa, scusate, no, perché voi volete fare la pista più lunga, perché così è più sicuro l'aeroporto, diciamo, però, e voi ci dovete dare i dati per spiegarci in che modo è più sicuro l'aeroporto, perché così voi avete preso un anno soltanto di clima, che per l'appunto è uno dei più buoni, però noi si dicevano, perché vi sono puntigliosi su queste cose, dici, se c'è un anno che invece i venti vanno a Bazzini, che succede, dove vanno questi voli? Giren, vanno a Pisa, vanno stessi a Firenze, per capire queste cose qua, perché noi ci si fidano, ma figure se non ci si fidano, però hai visto che queste cose le vogliono sapere. Un'altra cosa è questa qua, che magari se ce la potete mettere, cioè voi dite che volete potenziare lo scalo, però voi si vanno a vedere i numeri, e i voli sono 4 o 5 in più rispetto a quelli che ci sono, e quelli altri mi hanno detto, ma che è la lunga da fare questa pista se rimangono gli stessi, i voli? Ma io lo so che poi tanto so di più, però un minimo tu gli devi scrivere, non è che tu poi devi so 4 o 5 di più, perché se no tutti questi milioni, e che li spenda a fare, posso fare un'altra cosa, capito? Poi c'è il discorso della pista che lei è unidirezionale, bidirezionale, tridimensionale, e che gli aeromobili sono sempre, io non si è capito che la pista tanto lei è unidirezionale, assolutamente, gli aerei sono sempre quelli piccinini, semplicemente, e vanno più lontani perché tu ci puoi mettere più carburato, però questi dicono, e se una volta Peccas deve passare sopra Firenze, e fra 5 anni una volta, che ne so, il Renzi gli piace di atterrare quel 747 per far vedere che lei è sicura, che succede? Si dice, non è che viene giù la cosa, la palla sopra il cupolone, perché queste cose tu mi capisci, c'è gente che ha fatto storia per far passare il tram vicino al Duomo, tu gli fa passare il 747 sopra il cupolone e viene giù la palla, visto che l'ultima volta sta nel 1600, non è che si può rischiare, ma noi ce lo dite e poi noi ci si fitte, per carità, non è che noi ci si scrivete sulla parola che tanti aerei sono sempre quelli piccini, però voi lo scrivete che la cosa va meglio. Ultima cosa, ma questa è un'idea mia, che se viste che diciamo la zona vi piace, che ci costruite, che insomma le buone anche per investimenti e tutto, mi dicevo, siccome già che spostate il fosso reale, ma perché non lo fate passare un pochino più in là che poi ci si voleva fare noi una cosa, una centrale nucleare, magari quel fosso reale e si raffreddi il plutonio, capite, che sarebbe una cosa buona, vabbè ci pensate, grazie.